e siamo in linea è un altro giorno di sole qua a Kyoto Kyoto è molto bello ed è importante visitarla perchè è piena di templi quindi passeggeretevi, alzerete dal letto e incontrerete un tempo andate proprio avanti, prendete un cappuccino e incontrerete un tempio e così via, e soprattutto è pieno di bellissime ragazze vestite in abiti tradizionali anche ragazzi, però c'è mio marito che fa la camera non posso dire per oggi è tutto, il sole è splendente, a presto a presto è veramente una cosa bellissima ho un po' fatica a respirare a molarchi ora capisco tanti film che prima lo avevo capito però a parte questo questo collo è molto imperiale mi si addice grazie 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 questa sera una delle mie cene preferite griglia tozzo carne, verdura, tutto quanto e via guardate come cuoce buongiorno a tutti altro giorno a Kyoto oggi vi portiamo a vedere Arashiyama e tant' altre cose belle Woo! Buon appetito! Buon appetito!